ben trovato a riccardo magnani scrittore ricercatore esperto di leonardo da vinci studioso del rinascimento e cos'altro cos'altro potrei dire di te per farti riconoscere e identificare da chi ci segue futuro campione d'italia bene allora potremmo dire che dalle cose attuali come l'inter alle cose del passato tu sei un conoscitore un po così ad ampio spettro no come si direbbe in questi casi quindi oggi portiamo riccardo magnani insieme con noi alla scoperta dei quadrati magici arrivando fino al sator che questa è la mia curiosità però lui la vuole svelare soltanto alla fine insomma questo è un po quello che ho capito partendo invece dalle origini di tutta quanta questa narrazione che sembra essere molto affascinante quindi ti lascio subito la parola sì non è che io voglio parlare del sator alla fine perché perché me lo vuoi rivelare alla fine no ma perché c'è un processo di crescita nella conoscenza in maniera tale che le cose abbiano una sua compiuta collocazione non farle cadere dall'alto e poi mi si accusa di essere sibillino di non spiegare le cose come vanno hai ragione nel momento spesso in cui io le cose ve le voglio raccontare ve le voglio anche far capire ve le voglio soprattutto fare vostre in maniera tale che poi camminate da soli non mi chiamate nei tre per due a dire ecco oggi parliamo allora il quadrato magico a dimostrazione del fatto che tutto è uno si inserisce in un discorso più ampio che quello che abbiamo già affrontato quella dell'energia cosmica che tutto regola e determina e appunto il quadrato magico rientra in questo in questa tipologia di cose tanto che anche per dare un senso di continuità al tuo nome alle celebrazioni che si fanno quest'anno per dante per i 700 anni a divina commedia anche in uno scritto del figlio di dante compare il quadrato magico in particolar modo quello relativo al sole e la luna allora i quadrati magici sono delle matrici quadrate particolari in cui la somma dei numeri all'interno del quadrato stesso della matrice che è una matrice geometrica sono orizzontalmente verticalmente diagonalmente tutti sommati dante la stessa cifra ok ok quindi abbiamo una matrice quadrata che va da 3 a 9 numeri quindi 3 4 5 6 7 8 9 numeri la somma in orizzontale in verticale in diagonale da sempre una costante che si chiama costante magica allora sette numeri come i sette pianeti principali conosciuti all'epoca quindi luna sole li abbiamo già citati poi c'è giove marte mercurio venere chi manca saturno saturno bravissima che saturno è uno dei più conosciuti tra l'altro quindi sette pianeti in realtà sette astri che sono quelli che come abbiamo già parlato le altre volte determino o influenzano quell'energia cosmica che arrivando sul pianeta crea una sorta di codice genetico vibrazionale quindi l'influenza determinata da tutti questi sette astri principali in base a la forza di attrazione in base alla orbita di rotazione in base ai movimenti che compie attorno alla terra intorno al sole eccetera eccetera determina questa influenza ecco perché i quadretti i quadrati magici nel passato venivano associati a proprietà particolari e quindi venivano utilizzati come amuleti piuttosto che come si pensava elementi che potessero influire sulle nostre sorti abbiamo quadrati magici già nel quarto secolo avanti cristo in cina ma tornare prepotentemente in europa a firenze guarda caso nel quattordicesimo secolo e sono associati come dicevo prima al figlio di dante a luca pacioli ea tanti altri personaggi quindi ogni quadrato identificava un pianeta ed era un astro perché il sole la luna non sono pianeti e identificava una sorta di influenza vibrazionale che questo astro aveva questo non è altro che quello che viene fatto con la musica delle sfere da parte di pitagora ed è alla fin della fiera quel concetto sotteso alla creazione della musica musica che in passato era divisa in tre filoni principali la musica mundana cioè l'armonia mundi cioè quel comparto vibrazionale legato all'energia cosmica che è universale l'armonia umana cioè l'armonizzazione dell'energia che abita ognuno di noi che deve per forza di cose essere sintonizzata con l'armonia mundi e poi c'era la musica instrumentalis che non c'entrava niente con le altre due che più a si assimilava a luna e all'altra e più poteva avere dei riflessi indiretti in termini di armonizzazione di benessere perché tu sai che te l'avrà spiegato penso altri che ogni tanto albergamo il tuo canale le malattie non esistono esistono delle disfunzioni vibrazionali ok allora bene abbiamo parlato anche con te comunque del discorso dell'energia e della vibrazione del corpo ne abbiamo parlato anche abbastanza di recente associandolo al discorso della musica ai giorni della settimana insomma mi ricordo che questo numero 7 ricorre esatto e si collega coi quadrati magici cioè i quadrati magici quei sette quadrati magici che ti ho raccontato prima che venivano fatti d'accordo negli agripa venivano fatti da tanti altri dell'epoca erano associati proprio a questo stesso concetto cioè l'influenza che in termini vibrazionali ogni astro principale determinava full energia cosmica e quindi poi sul nostro benessere dicevo della separazione della musica in mondana umana e poi c'è quella instrumentalis quelle strumentali se libera apparentemente cioè mentre nell'universo c'è un codice vibrazionale unico indissolubile e inderogabile quindi non c'è assolutamente creatività o iniziativa democratica nella musica strumentali c'è piena libertà questa musica cioè quelle strumentali che è quella che conosciamo unicamente oggi è stata persa ogni riferimento a quella mundana e umana quantomeno in termini di conoscenza generalizzata fa sì che qualcuno pensi che la musica che oggi viene suonata cioè quelle strumentali è sufficiente una cordatura della 432 per renderla magica cosa che ribadisco non è anche se qualcuno intanto mi dice a ma io lavoro in una orchestra ma io faccio musica da una vita e quindi sento il benessere che questo da sul mio corpo non è così primo perché il benessere che percepisci con la tua mente non è il benessere che percepisce il tuo corpo secondo perché quella musica di cui parlavamo prima che è regolata da quei canoni geometrici e matematici raccontati anche dai quadrati magici a delle regole ben precise e delle formazioni in termini di rapporti di note assolutamente definiti che la musica di oggi non tiene conto nella maniera più assoluta quindi pensare che attraverso una cordatura 432 hertz si superi questa cosa è impensabile però guarda hai fatto bene a ricordare questo discorso del 432 hertz perché di fatto ancora oggi si sente invece moltissimo questo discorso soprattutto da chi vuole essere diciamo così un operatore del benessere quindi nel momento in cui si trova anche a fare una composizione ti raccomanda di ascoltarla proprio perché è 432 hertz e questo discorso che noi tra l'altro abbiamo anche affrontato qui insieme con te abbiamo dedicato proprio un video apposta questa cosa qua come 432 hertz sia un falso mito hai fatto bene a ricordarlo perché insomma è vero le cose devono essere ripetute per essere memorizzate come dicevamo proprio all'inizio di questo incontro no professor magnani sì c'è una conoscenza che oramai è talmente radicata all'interno di ognuno di noi per cui sradicarla diventa estremamente complicato e le convinzioni che alle quali ci aggrappiamo no per pensare che abbiamo capito tutto della vita sono difficilissimi da difficilissime da sradicare perché sono delle convinzioni dogmatiche e il dogma è difficile da da eradicare proprio per per questo motivo perché non avendo un suo fondamento non puoi negare il fondamento su cui è costruito a meno che non subentri l'utilizzo della logica e la logica ti fa capire che la musica del cosmo quindi questo movimento energetico o cosmico determinato da tutta una serie di correlazioni matematiche geometriche ben precise non può essere sostituito da una singola vibrazione o meglio dalla cordatura secondo una singola frequenza che è il la 432 hertz questo lo capirebbe chiunque ma però proprio perché è proprio perché su questo si è costruito un movimento culturale sociale estremamente forte poi diventa difficile da eradicare pensa che ci sono personaggi oggi come oggi che vanno in giro a vendere un monocorda a prezzo di modico di 5000 euro raccontando proprietà benefiche rappresentato da 36 corde che vengono fatti vibrare grattando partendo dal discorso del 432 hertz però si potrebbe quasi dire riallacciandoci ai quadrati magici che questi potrebbero essere utilizzati quasi come talismani dalle persone per poter avere un'energia esterna e pensare di avere un'energia esterna certo ovviamente sì ma perché quello che noi ci mettiamo sull'oggetto no quando indossiamo determinate cose come quando ascoltiamo la musica a 432 hertz però questo è il rischio più grosso di chi volendo traslitterare il senso delle cose da delle false indicazioni alla gente per trarne un beneficio proprio cioè se io cominciassi a dire che indossare la maglietta dell'inter porta bene a chi la indossa avremmo tutti con la maglietta dell'inter guarda che è come è colui che mi dicevi pochi istanti fa che vende qualcosa monocorde a 5000 euro lo fa per un vantaggio personale non mi sembra che ci siano no bravissima bravissima la superstizione è la negazione della conoscenza cioè vuol dire credere in un qualcosa infondato e appagare la nostra mente cioè quel senso di tranquillità che altrimenti la nostra mente non ci dà e su questo ci hanno costruito tutte le forme dogmatiche superstiziose del mondo no cosa che non è cosa che non è ok quindi lui è diventato sicuramente un talismano ci detto nel rinascimento probabilmente così veniva utilizzato fin tanto che a partire dalla fine del quindicesimo secolo c'è da quando tutte queste cose appartenenti al neoplatonismo mettevano in crisi il mondo cattolico cristiano mondo cattolico cristiano ha impedito l'uso del dell'astronomia dell'astrologia perché poteva essere un modo attraverso il quale le persone comprendevano come funzionava l'universo e quindi tutti quei comportamenti superstiziosi o vissuti nel timore di dio potevano allontanare le persone da loro questa cosa del timore che poi è il timore di io ma è la strategia della paura e del terrore lo viviamo oggigiorno l'hai già dibattuto con dei tuoi ospiti relativamente alla pandemia e molte altre cose quindi non è il caso di sottolinearlo però effettivamente si vengono vissuti come un elisme un elemento quasi superstizioso perché perché non sapendo effettivamente a cosa si riferiscono qualcuno ci ha detto che ci porta bene quindi se io ascolto musica accordata 432 hertz non mi interessa che musica sia come sia costruita chi l'abbia fatta non mi interessa assolutamente a nulla so che mi fa bene sì e questa è la più grande stupidata che si possa raccontare però è una narrazione comune no come dicevamo prima sì ed è anche una narrazione anti impopolare tanto che siccome oramai c'è questa ondata di ricorso a queste pratiche olistiche alla meditazione 4 se tu lo racconti diventi impopolare quello deve dire per forza che i 432 hertz no io racconto cose per far capire la gente come funziona ovviamente ovviamente ma anche questo discorso dei quadrati magici è affascinante perché lo dicevamo proprio all'inizio il discorso del sator no questo quadrato di sole lettere che si può leggere in tanti versi e sempre la stessa frase riporta anche questa è una situazione che resta affascinante misterica per questo la gente si appassiona proprio a cose di questo tipo brava allora hai involontariamente accarezzato un mio cavallo di battaglia non esiste mistero ma sono una cuna indotta di conoscenza scusa chi ha detto che è involontariamente che io non abbia letto approfonditamente riccardo magnani no fammi capire casualmente vedo alla destra un libro che ok esattamente allora nel momento stesso in cui io non conosco il significato di una cosa sono affascinato da quella cosa e ne sono attratto le persone che vedono che sono attratto da quella cosa sapendo che mantenendomi nell'ignoranza io continuo a essere attratto da quella cosa danno le spiegazioni più disparate senza dare quella corretta perché nel momento in cui io do la soluzione corretta non c'è più mistero e quindi perdo assolutamente l'interesse e questo è il questo è il controsenso del genere umano perché nel mentre la conoscenza dovrebbe essere un'opportunità unica per crescere noi viviamo la conoscenza come un elemento di disinteresse cioè quando raggiungiamo un livello di conoscenza su una determinata cosa l'abbandoniamo e ci buttiamo nella prossima così sfera di mistero e questo è una follia perché ogni volta ci buttiamo di cui non conosciamo niente ci buttiamo nelle braccia di chi non fa altro che approfittare di quella situazione e trarne un beneficio proprio quindi spieghiamo cos'è questo benedetto sator è sì direi allora abbiamo detto più volte che l'universo è un sistema duale in cui ci sono due forze contrapposte queste due forze dette energia maschile energia femminile sono una destro giro una sinistro giro un ascendente una discendente una legata all'energia solare una legata all'energia lunare fratello sole sorella luna francesco d'assisi che sono quel benedetto elemento maschile femminile di cui si compone l'androgeno spirituale cioè noi siamo un corpo materico che è abitato per un periodo limitato da un'energia che è quell'energia cosmica che regola tutto quello che c'è nell'universo questa energia è composta di energia maschile energia femminile non come le intendiamo questo profilo sessuale ma appunto secondo quella descrizione di ascendente e discendente dice veraclito tutto nasce per legge di contesa dalle cose di scordi sgorga bellissima armonia questa armonia che sgorga non è altro che l'armonia mundi cioè l'armonia delle sfere celesti cioè quel sistema di vibrazioni composte secondo regole matematiche geometriche che tutto quanto è all'interno dell'universo viene determinato ed è una regola assolutamente indissolubile e inderogabile quindi abbiamo da una parte la musica delle sfere da una parte abbiamo il matrimonio spirituale il rebis cioè quello stato in cui la nostra parte sottile il nostro corpo sottile di luce si compone che è composto da energia maschile ed energia femminile il cristo per intenderci la gioconda per intenderci il rebis come dicevo eccetera eccetera e poi c'è questa dualità palindroma c'è la bidirezionalità ok ascendente e discendente ok questa musica come abbiamo detto è l'insieme dell'influenza dei sette astri principali che poi determina i sette giorni alla settimana delle cose legate al set e quindi quadrati magici ok allora se noi andiamo analizzare il sator noi abbiamo che leggiamo rotas le sfere opera tenet allora l'opera è la prima cosa che nasce dall'unione diceva leonardo l'opera è l'emanazione prima della monade il rebis cioè l'equilibrio fra energia maschile energia femminile la gioconda rotas sono gli astri le sfere celesti tenet è questa bidirezionalità la dualità questa cosa è in alto come in basso a destra come a sinistra ovunque esattamente le direzioni del quadrato magico del sator se noi prendiamo quello che succede fra l'energia ascendente quella discendente che sono raccontate da pitagora attraverso la costruzione ottenuta col monocordo dai primi rapporti armonici cioè unisono ottava quinta e quarta musicale che sono determinati dai primi quattro numeri cardinali uno due tre quattro si ottiene uno un mezzo due terzi tre quarti che sono appunto i rapporti di unisono ottava quinta quarta se questa freccia noi la disponiamo in basso in alto a destra a sinistra così come viene letto un quadrato magico e a maggior ragione il sator noi cosa otteniamo la croce di malta la croce templare se noi questa croce la sovrapponiamo al quadrato magico principale quindi sator cosa otteniamo una scritta che è a e o n eone l'emanazione prima della monade l'opera quindi il sator non è altro che l'essenza prima attraverso la quale viene raccontato ciò che sottende a tutta la vita nell'universo e a tutte le dinamiche comprese nell'universo né più né meno è l'essenza prima poi da lì purtroppo a furia di lacune di conoscenza indotte si sono costruite le peggio teorie del mondo ma il sator è l'evidenza più sintetica che ci può essere di come l'universo funzioni e di come funziona il nostro essere intorno all'universo cioè noi ci dobbiamo comportare in maniera tale che quell'energia che l'universo ci presta per animare il nostro corpo fisico materico noi la manteniamo il più intonsa possibile questo per due motivi primo perché è cosa ricevuta ed è buona norma restituirla così come l'abbiamo ricevuta in secondo luogo perché nel momento in cui noi la manteniamo il più possibile inalterata automaticamente l'armonicità con cui noi la manteniamo fa sì che non siamo soggetti a malattia ecco allora lo scopo dov'è della meditazione di tutte le pratiche relative alla nostra parte spirituale cioè mantenere la nostra parte energetica spirituale il più possibile integra in maniera tale che non subentrino cause di malattia le cause di malattia sono infinite sono legate a un trascorso a un esperienza a volte un esperienza che non è nostra ma è addirittura dei nostri genitori o dei nostri avi cioè ci sono dei legami che si portano avanti e sono esclusivamente legati alla parte energetica questo te lo può spiegare dire meglio di me o meglio te lo spiegherai te lo diranno nello stesso modo ma in maniera più credibile in quanto è medico un medico appunto ma questo è quello che funziona è un medico bravo mi viene da dire i quadrati magici sono l'espressione individuale dell'influenza che ogni astro genera sull'energia cosmica così da farla arrivare sulla terra quindi a noi in un'armonia ben definita il satore invece è in maniera generica la sintesi di quello che avviene nell'universo cioè ce n'è solo uno diciamo è solo è solo quello espresso in quel modo si può essere costruito in una forma diretta o indiretta cioè dritto o capovolto dritto o capovolto non è involontario cioè questa energia abbiamo detto che ascendente o discendente prima ti ho parlato del tetractis no è il modo in cui questa energia veniva raccontata dai greci il tetractis può essere rivolto verso l'alto o rivolto verso il basso proprio perché questa energia è ascendente o discendente lo scopo è ottenere un esatto equilibrio fra queste due energie se tu metti insieme il tetractis ascendente con quello discendente cosa ottieni la stella di david ok quindi il fatto che il satore sia scritto in un verso piuttosto che un altro determina questa cosa è chiaramente uno solo cioè il satore è rappresentativo di quello che funziona i quadrati magici sono una descrizione parziale di come succede cioè di come ogni singolo astro interviene su questa energia questa dualità è espressa in una infinità di modi come dicevo energia maschile energia femminile alto basso paradiso inferno e tutto quello che volete ed è espresso da quella dualità raccontata dai grassi da eraclito che poi viene raccontata in un schema filosofico ricorrente che è quello del filosofo che piange il filosofo che ride eraclito e democrito cioè colui che ha il carattere saturnino e colui che ha il carattere gioviale saturnino e colui che attiene alle cose basse terrene materiche gioviale colui che guarda le cose ultra terrene e quindi della vibrazione eccetera eccetera tanto che uno dei quadrati più famosi della storia è quello contenuto nella melancolia 1 di durer in cui c'è questa donna estremamente afflitta e pensierosa perché chiaramente è espressiva del carattere saturnino e dietro di lei c'è un quadrato magico che attiene a saturno quindi queste rappresentazioni sono quello che tra l'altro gioviale un sinonimo di gioviale è giocondo questo è il motivo la gioconda si chiama gioconda e non certo perché è moglie lisa gherardini il giocondo cosa che non è perché è la rappresentazione di leonardo al maschile quindi in cui anche anche di questo abbiamo parlato già in altro video alla fin della fiera questo è nella sintesi nella sintesi più assoluta quello che succede quindi se ho deciso oggi di parlare con te di saturno è perché il saturno è l'espressione prima di tutto quello che succede se noi facciamo questo gesto che oramai avete imparato a riconoscerlo tre energia maschile e quattro energia femminile uniti da 95 che è l'uomo rigenerato poi adesso veniamo dalla pasqua con la resurrezione eccetera eccetera questo schema è il teorema di pitagora 3 quadrato 4 quadrato e 5 quadrato questo ti fa intendere come alla base di tutto questo sistema in cui le energie dell'universo sono pareggiate c'è uno schema matematico geometrico e tutto lì riconduce quando sento parlare di sezione aurea di progressione di fibonacci quando vedo associare la spirale aurea dipinti quando non c'entra niente perché a qualcuno l'ha sovrapposto anche la gioconda tante altre cose vorrei specificare che la sezione aurea e la sequenza di fibonacci sono la conseguenza di quello schema matematico geometrico a cui tutto si rifà non sono la causa ecco perché è così importante la forma con cui la musica è costruita cioè non basta i 432 hertz per dire che quella musica è bisogna replicare quei rapporti armonici geometrici che sono espressivi di come le vibrazioni dell'universo si compongono altrimenti è un ingannare se stessi e purtroppo ci sono persone che magari anche in buona fede perché non capiscono a loro volta la situazione ingannano loro stessi e in secondo luogo noi stessi ma siccome il nostro scopo è aiutare l'uomo a non essere ingannato e a comprendere come funzionano le cose noi le raccontiamo grazie riccardo magnani perché come sempre dopo che passi tu tutto si illumina e quindi bisogna dire che ovviamente noi facciamo tesoro delle tue conoscenze quindi abbiamo imparato molte cose riguardo alla musica molte cose riguardo oggi alzato ore quadrati magici insomma credo che siano magari come dire ci siano meno ipotesi di superstizione e più conoscenza anche se la superstizione ha il suo fascino c'è da dirlo allora la superstizione ha il suo fascino però crea schiavitù la conoscenza ci rende liberi e questo è non solo uno slogan ma in realtà tutto ciò che è vibrazione che sia un sentimento che sia un colore che sia una forma influisce su di noi quindi dobbiamo stare estremamente attenti a quello che ci circonda perché condiziona il nostro modo d'essere ma non solo lo condiziona nelle scelte che facciamo nell'umore ci condiziona pesantemente nelle malattie lo stato di terrore in cui ci stanno facendo vivere si condiziona le nostre malattie sta creando una serie di scompensi psicologici infiniti oltre ai già manifesti problemi di carattere economico e social ci sono dei disagi psicologici notevoli soprattutto nei minori e questi disagi nei minori sono il riflesso indiretto di quello che noi adulti stiamo patendo perché glieli stiamo trasmettendo quindi a maggior ragione tutti questi racconti che possono essere sembrare marginali o legati un percorso storico passato in realtà sono importantissimi da comprendere perché influiscono sul nostro benessere sul nostro stato di salute fisica e mentale no no ma sono assolutamente convinta che siano importanti anzi riprova ne è il fatto che ci sono tante persone che in questo periodo si sono proprio dedicate alla meditazione a una sorta di introspezione come abbiamo già avuto modo di dire che poi vada nel giusto verso questa introspezione quello è un altro punto che bisognerebbe forse prendere in esame però è arrivato il momento in cui ciascuno si prende diciamo così la responsabilità della propria vita nel bene e nel male sì il problema è che il 90 per cento delle persone che fanno questo percorso da ragione a guzzanti cioè la risposta dentro di te ma è quella sbagliata perché la cerca nel posto sbagliato capito sì abbiamo già detto anche questo lo fa è convinto invece che si fa forte di questa cosa il che non va bene esatto sì bisognerebbe ampliare la conoscenza e quindi leggere di più studiare di più informarsi di più e seguire riccardo magnani che ringrazio per essere stato con me anche in questo appuntamento alla prossima alla prossima campione d'italia ciao iscriviti al canale youtube e segui il mio blog sul sito fabbrica della comunicazione ti aspetto con le mie interviste su davvero punto tv e tutti i giorni su focus radio ciao